Buon pomeriggio a tutti da Gioia Emilia Romagna. Cosa ha fatto Gioia Emilia Romagna questa mattina? Gioia Emilia Romagna questa mattina è andata a fare un giro al mercato di Cesenatico. Però vi voglio fare conoscere un mio caro amico che da oggi ogni tanto verrà a trovarmi e faremo due chiacchiere insieme. L'avete già conosciuto ieri perché era in giro al mercato di Cervia e ora vi presento il pappagallo Portobello. Vieni dai! Sì no! Mi piace essere pappagallo Portobello. Ciao Gioia Emilia Romagna! Ma ciao pappagallo Portobello! Posso darti un bacino? Sì me lo posso darti un bacino. Ecco qua! Allora pappagallo Portobello. Tu lo sai che ieri sera c'è stato il consiglio comunale, vero? Dice Zenatico che si parlava del mercato ambulante. Non so non ti ho voluto perché... che è il consiglio comunale. I pappagalli non possono entrare. Sì ma allora come è andata? Eh di è andata che la mozione non è passata. Comunque stamattina sono andata al mercato e tu sei venuto con me. A un certo punto cos'è successo? Lo racconti tu? Lo raccontaremo! Eh dai racconta cos'è successo allora. Sì mi scoppava il portobello. E allora siamo andati al bagno, quello vicino allo stadio, nell'angolo della piazzetta delle scarpe. Perché il bagno era chiuso? Confermi tu, vero pappagallo portobello? Sì sì confermo, me mi scoppava la pipì e il bagno era chiuso. E cosa ci hanno detto i nostri colleghi? I colleghi hanno detto che il portobello è chiuso da un paio d'anni. Quindi ha un servizio pubblico che potrebbe servire al mercato. Ma è chiuso. Sì hai ragione Gianluca Romagna. Potrebbe servire sia il margolante che il cliente del mercato. Eh hai molto ragione Portobello. Ah ah sì sì è un paio d'anni. Ma guarda. Cosa si fa al mercato pappagallo Portobello? Dillo tu ai telespettatori. Al mercato si fa la spesa. Eh giusto, al mercato si fa la spesa. Quindi avere una lista della spesa non è così scandaloso, vero? Avere una lista della spesa e per il mercato è una cosa molto giusta. Anche Portobello dice che la lista della spesa è molto importante per il mercato ambulante. Perché se non si fa la lista della spesa, come si fa a comprare al mercato? E' sempre dire la lista della spesa. Ma io ti voglio tanto bene Portobello. No, non voglio solo Portobello, pappagallo, c'è sempre la genere. Eh caro mio, caro mio, mio Portobello. Oggi è bello, mi voglio da tutti e libero. Certo, oggi è San Valentino. E allora cosa dici Portobello? Facciamo il buon San Valentino a tutti? Buon San Valentino a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Da Gio Emilia Romagna e il pappagallo. Pappagallo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.